Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di criptovalute, giornata oggi di lunedì molto verde, il mercato delle criptovalute sembra aver fatto un rimbalzo, un rimbalzo che sembra essere un rimbalzo tecnico, non certo una ripresa, in quanto le condizioni di mercato in questo momento non sono cambiate, ci riferiamo in particolare all'aspetto macroeconomico. In tendenza vediamo Shibadoge che fa più 33.68% di questo Shibadoge, abbiamo parlato qualche mese fa ormai sul canale, se ancora non hai visto il video di Shibadoge te lo lascio qui in alto, quando guarda lo commenta lo lascia anche un like. Vediamo come Bitcoin e Ethereum con rialzi nelle ultime 24 ore ha due cifre, segnale quanto meno di, così, un minimo di speranza che Solana fa un bel balzo e lo fa anche, anche se più piccolo, Dogecoin, adesso andiamo a parlarne. Per quanto riguarda invece Shiba Inu più 6%, come sempre ragazzi prima di cominciare il video, questa è la playlist criptovalute e valute digitali del mio canale YouTube, mi raccomando tanti video, commenta riguardagli, lascia anche un like, ovviamente se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia anche un like a questo video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Per quanto riguarda le news di quest'oggi, c'è sicuramente il fatto che in questo momento la PID delle criptovalute è in ribasso, insomma i ribassi sono stati molto molto pesanti, ma sappiamo anche che, lo prendiamo da questo articolo di criptovaluta.it, le corporation internazionali ormai non tornano indietro sul mercato delle criptovalute e stanno andando avanti a costruire quelle che sono le loro strutture e andare ad accumulare posizioni sul mercato delle criptovalute e sfruttando il fatto che i prezzi effettivamente sono crollati, ci riferiamo soprattutto agli asset più appealing, in particolare come bitcoin e ovviamente come ethereum. Tra l'altro, grafico alla mano, bitcoin sembrerebbe affrontare i rialzi dei tassi meglio di ethereum, questo perché insomma, se andiamo a vedere graficamente, bitcoin ha sofferto meno ethereum, si trova in una situazione, lo vediamo anche graficamente, sicuramente più difficile rispetto a bitcoin, lo vediamo anche qui a un anno, vedete insomma il risultato che ha fatto ethereum, era arrivato qui a quasi 3500, questo lo stiamo parlando di due mesi fa e ora insomma la quotazione ha perso veramente tanto, siamo intorno a 1126, qui c'è da proteggere la soglia dei 1000 dollari. Ripeto, sicuramente manteniamo la posizione che in questo momento forse ancora per comprare è presto. Altra cosa che è successa insomma qualche ora fa è un bel tweet di Elon Musk, sapete che Elon Musk è sempre molto attivo sul mercato delle criptovalute, in realtà è sempre molto attivo sulla sua parte social, in particolare di twitter, ed è questo il twitter in questione, Elon Musk è wikip support in dogecoin, questo perché insomma in questo momento il mercato delle cripto è veramente setato di news, Elon Musk fa sapere che lui rimane sereno e vicino alla comunità di dogecoin, dogecoin che in questo momento capitalizza qualcosa come quasi come 8 miliardi di dollari, effettivamente dopo il tweet appunto di Elon Musk ha avuto un rialzo di circa il 10% che poi è stato assorbito in parte. La notizia per quanto riguarda Elon Musk e dogecoin è un amore molto lungo, sin dall'inizio Elon Musk si era definito il doge fad. Ripeto, da un punto di vista complessivo questo rimbalzo non cambia molto, ovviamente non bisogna farsi secondo me così abbagliare da questo rialzo, ripeto è chiaro che il mercato non può andare avanti e scendere all'infinito, bisogna capire con più stabilità se questo bottom è stato toccato, ripeto nel frattempo state sempre molto attenti, insomma il mercato delle criptovalute ha mostrato in queste settimane tutta la sua volatilità e ovviamente in questo caso se non si hanno le cinture ben allacciate si rischia veramente di andare fuori giri. Ovviamente ripeto sul canale andremo avanti a seguire quelle che sono le criptovalute, facciamo una menzione anche per quanto riguarda Shiba Inu, Shiba Inu in questo momento non ci sono novità da un punto di vista diciamo del progetto, quello insomma che sappiamo è che il mercato, che la valutazione di Shiba Inu è tornato quasi ai livelli pre-bullrun, e vedremo se finalmente poi si comincerà a vedere tornare acquisti pesanti su questo progetto che per tanti è meramente speculativo ma sappiamo anche che insomma c'è stato uno sviluppo importante da quello che era inizialmente semplicemente un meme coin, però insomma ripeto sicuramente quanto meno quest'oggi registriamo il mercato delle criptovalute che torna in positivo e vediamo se effettivamente c'è un reinit, se torna ad acquistare pesantemente sappiamo che in quel caso la ripartenza delle cripto potrebbe essere quanto mai veloce e ovviamente a quel punto difficile ad accogliere, sappiamo però i fatti sono che da un punto di vista macroeconomico, tassi di interesse, rialzo, insomma tutte le questioni che abbiamo affrontato sul canale nelle ultime settimane non è cambiato esattamente nulla, quindi in questo caso potremmo leggere questo rimbalzo come rimbalzo tecnico o come il famoso rimbalzo del gatto morto, quindi potrebbe anche essere vista come una bull trap, quindi mi raccomando come sempre non sono consigli finanziari, fate le vostre valutazioni appunto se volete investire una quota di risparmi in asset come le criptovalute. Ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, scrivetemi di tutto quello che volete, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, come sempre ragazzi grazie per aver visto il video fino adesso, ci sentiamo nelle prossime giornate con nuovi aggiornamenti, sempre per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, il mercato delle criptovalute che oggi festeggia il ritorno di Bitcoin sopra la quota di 20.000 dollari, un abbraccio, a presto.